L'ho fatto. Di momento siamo pronti alla porta. Creengeca, modulo, un metro di discesa completato. Ok, prosegui così. stop a mino stran Jack, stop ok, Rob si sposta sulla frua la circolare difficoltà in questo momento per il pilota è il volare senza alcuna o con scarsissima visibilità la sospensione si è alzata dal fondo a causa di aver poggiato il modulo di recupero sul fondo in questo momento a parte qualche scarso sprazzo di visibilità delle telecamere l'unico punto di riferimento per il pilota risiede nel solar tutte le unità plancia, Stren Jack, Sarvey, tutte le marre sono regolarmente chiuse quindi ci prepariamo piano piano a salpare fino a quando non saremmo completamente distaccati la nave dovrà mantenere questa brua poi in caso di necessità da parte vostra ci chiederete una rotazione altrettanto faremo noi da parte nostra, chiaro? si, ricevo un momento, stiamo bene così perfetto, fai un metro e poi ti fermi vediamo come siamo messi col roll verifichiamo il carico va bene, allora ti confermo che siamo a 5 metri dal fondo quindi a tutte le unità siamo in sollevamento col relitto dentro il modulo datemi il ricevuto, grazie Stren Jack ricevuto l'onda è ricevuto la navigazione è ricevuto perfetto, ottimo lavoro, andiamo avanti, grazie 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 grazie